Muffin salate ai broccoli e stracchino, una combinazione perfetta di verdure e formaggio cremoso. Prepariamoli insieme. Per prima cosa tagliamo mezza cipolla a striscioline e la facciamo soffriggere con un po' d'olio d'oliva. Dopo aggiungiamo anche 150 g di broccoli e li facciamo cuocere coperti con un po' d'acqua. Nel frattempo in una ciotola aggiungiamo un uovo, 100 ml di latte, 40 g d'olio d'oliva, 8 g di lievito istantaneo per torte salate e iniziamo a mescolare il tutto con una frusta. A questo punto aggiungiamo anche 160 g di farina 00 e continuiamo a mescolare. Per rendere i muffin più gussosi e cremosi aggiungiamo 60 g di stracchino. Dopo una bella mescolata versiamo 2 cucchiai di formaggio grattugiato, un po' di sale e un pizzico di pepe. Quando i broccoli saranno cotti lasciamoli un po' intiepidire e aggiungiamoli all'impasto. Diamo una bella mescolata e riempiamo i pirottini di carta. Facciamo cuocere i nostri muffin in forno statico già caldo a 180 gradi per 25 minuti. Ed eccoli pronti, soffici e saporiti, perfetti per un pranzo leggero, un buffet o come finger food. Ciao e alla prossima ricetta!